Sostituisco indegnamente Alessandro Banfi perché è stato precettato dalla sua rete televisiva dopo gli eventi che sono successi ieri rispetto alla questione del governo e quindi oggi è stato precettato. Quindi a me il compito di presentare l'incontro che è la presentazione del libro Jorg Bergoglio una biografia intellettuale scritto dal professor Massimo Borghesi edito da Jakabuk. Per capire questo libro leggo una parte dell'introduzione della premessa che ha fatto il professor Guzan Carichiri che è il vicepresidente della Pontificia Commissione per l'America Latina perché ci aiuta a entrare un po' dentro poi il contenuto del libro che i relatori svolgeranno. Si tratta di uno studio molto importante che prende in esame un aspetto essenziale decisamente trascurato per la comprensione dell'attuale pontefice, quello della genesi e dello sviluppo del suo pensiero. Si tratta di un contributo indispensabile per conoscere meglio la personalità di Papa Francesco nella quale si coniugano la sua esperienza mistica e quella intellettuale. Il libro lo presentano questa sera sua eminenza il Cardinal Guardiero Vassetti che è il nostro... Avrei preferito che l'applauso me l'avreste fatto dopo se me lo fossi meritato. Siamo così sicuri che possiamo anticiparlo. E bisogna anche ringraziarlo perché l'incontro l'ha voluto fortemente lui e ha scelto anche i relatori quindi da questo punto di vista... Don Julian Carron che è il presidente della Fraternità di Comunità e Liberazione che è succeduto a Don Giussani e il professor Massimo Borghesi che è l'autore del libro oltre che nostro docente all'Università degli Studi di Perugia di filosofia morale. Io che mi sono cimentato nella lettura del libro di Massimo volevo sottolineare alcune questioni che mi hanno colpito prima di entrare dentro l'approfondimento di questo testo. Il primo cosa che colpisce è che questo aiuta a capire il magistero di questo Papa. Sono stati scritti molti libri su questo Papa nessuno ha affrontato un po' la costruzione sia della sua storia che del suo pensiero. Questo quindi ci aiuta a capire sia il suo magistero ma anche il suo atteggiamento quello che noi vediamo comunemente nella forma e nella modalità con cui lui si rapporta con la gente che incontra e nei momenti di incontro. E ci aiuta a conoscere quali sono stati i suoi maestri, gli autori da lui preferiti, i fatti della sua vita. Quindi in un certo senso ciò che ha ispirato anche il suo pensiero e anche la sua modalità di interagire con la gente. Il libro contiene anche quattro interviste che sono state rilasciate dal Pontefice su domande fatte dal professor Borghesi in file audio. Quindi in un certo senso il professor Borghesi poi magari lo racconterà, ha approfondito anche direttamente col Papa alcune questioni del suo pensiero. A noi ci aiuta per immedesimarci su questo Papa che tra l'altro nell'immediatezza del suo pontificato ha colpito, come si dice, bucato tutta l'informazione e ha colpito la nostra credenti e non credenti, suscitando anche controversi pareri. Ma da questo punto di vista questo libro ci aiuta a ridurre un po' gli slogan con cui viene definito il Papa, invece entrare con più profondità dentro quello che è invece il suo pensiero. Ci aiuta in particolare a leggere questo Papa come colui che sa interpretare i segni dei tempi. Prima di dare la parola al Cardinale, voglio stonare a una cosa che lui ha citato di Paolo VI nell'ultimo omelia durante la veglia di Pentecoste, citando un intervento che fece nel 74 Paolo VI, quando diceva che l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri e se ascolta i maestri è perché sono dei testimoni. Ecco, questo mi ha colpito, mi è ritornato nel leggere questo libro perché è come se questo fosse uno dei punti focalizzanti di questo pontificato. Prego. Carissimi amici, vedo con gioia che la nostra città di Perugia ha ancora il palato buono e quando ci sono delle cose saporose, importanti, belle, sa ancora muoversi. Questa stanza stasera, questa bellissima aula è strapiena e ne sono veramente felici. Avete un buon gusto, grazie. Sono veramente felice di partecipare alla presentazione di questo libro che ha un autore importante, il professor Massimo Borghesi, anche perché è un mio diocesano di Sansepolcro. A furia di fare come vescovo il giro della Toscana, non ho trovati degli amici e vedo che qui poi ci sono anche altri presenti di Sansepolcro. Massimo Borghesi, e anche il tema è di grande rilevanza, come diceva prima Giuseppe, la biografia intellettuale di Papa Francesco. Si potrebbero fare molti commenti sul libro così ricco di suggestioni, di interpretazioni, di informazioni, è un bel tomo. Ma la prima dotazione che vorrei fare, e la faccio con lo spirito paterno del pastore che ha a cuore la vita del suo gregge, quindi la vostra vita, è sul tipo di libro che noi ci troviamo di fronte. Un libro ragionato, non a geografico, non racconta la storia ad un santo, anche perché poi il Papa è vivente, e neanche iconoclasta, perché ci sono anche libri che distruggono le persone. Un libro che non si presta alle mode effimere del momento, e non presta a fianco alle narrazioni istintive e grossolane della rete. Un libro serio e autorevole, di cui si sentiva indubbiamente il bisogno, anche perché ci sono infiniti libri su Papa Bergoglio, e non tutti naturalmente hanno lo stesso peso. Ma non solo. In questo libro si percepiscono immediatamente, sin dalle prime pagine, due qualità dell'autore. L'umiltà, si mette un passo indietro, e l'amore per la ricerca. Due caratteristiche decisive per ogni studioso, ma che oggi sono di grande importanza, anche per un dibattito pubblico, nella nostra cara diletta Italia, come avrebbe detto Benedetto XVI, anzi XVI. Umiltà e amore sono due qualità essenziali che in questo tribolato crinale della storia rappresentano due virtù necessarie per l'intera comunità nazionale. Vedo tanti, tanti giovani ragazzi, è importante umiltà e amore, perché è l'unico modo con cui noi possiamo approcciare oggi la complessa realtà che ci sta di fronte e anche il mistero di Cristo si approccia, ci si approccia con umiltà e amore. Vorrei sintetizzare questa mia breve riflessione sul libro attorno a tre concetti che possono essere espressi con tre parole semplicità. Semplicità, potere e apparecida. inizio dalla parola semplicità che identifica al tempo stesso un atteggiamento pastorale, un modo nuovo di porsi, sempre più vicino alla gente comune, ma anche a una delle critiche ricorrenti su questo pontificato. qualcuno ha avuto da ridire che abbia fatto cardinale, per esempio, un giovane vescovo che è interessato della carità nel Vaticano, Corrado, che va in bicicletta, che va a scovare i poveri da tutte le parti e che la sua casa in Vaticano è sempre piena di barboni. Tanti non le capiscono queste cose di Papa Francesco. Francesco sostengono alcuni critici è un Papa che parla in modo troppo semplice e dietro questa semplicità si maschererebbe una scarsa preparazione teologica del Pontefice. In questo modo, denunciando la semplicità di Francesco, si evidenzierebbe da un lato la distanza culturale con Benedetto XVI e dall'altra si metterebbe in risalto il suo carattere sudamericano che, visto in quest'ottica, sarebbe come sinonimo di impreparazione culturale, di inferiorità intellettuale rispetto alla nostra cultura europea. dico queste cose perché sono state scritte e il professore le conosce bene queste critiche. Massimo Borghesi sviluppa però un'opinione completamente diversa rispetto a queste critiche e io che conosco abbastanza bene il Papa, adesso poi da quando sono presidente della CEI lo vedo anche più di frequente, mi rendo conto della sua profondità, certamente anche del suo umorismo, perché poi è un uomo pieno di umorismo. Un pensiero che si è sviluppato ed evoluto nel corso dei decenni, frutto di letture, meditazioni, incontri culturali e pastorali che hanno fatto maturare in Bergoglio un pensiero complesso che si traduce e scrive Borghesi in un linguaggio semplice che deriva da una profondissima conoscenza del territorio e dei suoi abitanti e da una lunga elaborazione anche lessicale sul campo della sua identità di sacerdote. arrivare alla semplicità e profondità di Papa Bergoglio bisogna essere anche degli intellettuali sopraffini. Insomma, per dirlo efficacemente con le parole chiare di Borghesi, il linguaggio di Bergoglio è semplice perché lui vuole essere semplice. Questo è il punto di partenza di tutta la riflessione del volume. La semplicità del Papa è la semplicità del pastore che vive immerso in una moderna megalopoli tutto l'opposto dell'immagine del curato di campagna che a volte alcuni critici gli hanno cucito addosso. È la semplicità di un Vangelo espresso sine glossa direbbe San Francesco e in modo che rigmatico. È la semplicità infine frutto di una riflessione profonda e originale che però per essere compresa fino in fondo per essere diffusa tra il popolo di Dio deve essere comunicata in modo intelligente e adatta ai tempi. Allora solo a questo punto dobbiamo chiederci quali sono state le tappe decisive di questa biografia intellettuali? Quali sono le linee guida ai maestri di Bergoglio? A questi interrogativi Borghesi dedica tutto il libro ricostruendo storicamente le principali fasi di questa maturazione personale e alla conclusione del volume si può tracciare una mappa concentuale del pensiero di Bergoglio che non solo è estremamente interessante ma che a mio avviso è forse quasi del tutto sconosciuta. Il quadro d'insieme che scaturisce è una fitta trama di personaggi alcuni dei quali sconosciuti a noi europei. Se indubbiamente il pensiero ignaziano e quello di padre Pietro Favre sono dei capisaldi indiscussi della formazione gesuitica che ha avuto sin dalla giovinezza ci sono altri due intellettuali gesuiti menzionati da Borghesi estremamente importanti. Mi riferisco a Michel Desertot e a Gaston Fessar. E infine accanto a questi faccio altri due nomi decisivi l'uruguaiano Alberto Etole Ferré uno dei più importanti intellettuali cattolici dell'America del Sud e la filosofa argentina Amelia Podetti da cui il Papa dice di aver preso l'intuizione delle periferie è quanto parla il Papa delle periferie è estremamente importante sottolineare che questi due ultimi nomi metol ferré e podetti centrali per l'elaborazione bergogliana siano sostanzialmente sconosciuti in Europa. È importante questa annotazione di Borghesi perché spiega le difficoltà di molti intellettuali europei non dico a capire ma a sintonizzarsi sul registro culturale e linguistico dell'attuale pontefice un pontefice che però a dispetto di un altro luogo comune da sfatare ha avuto una formazione fortissima legata alla cultura europea secondo Borghesi infatti nella biografia intellettuale di Bergoglio occorre evidenziare l'importanza di due grandissimi teologi europei Hans Urs von Baltasar e Romano Guardini il riferimento a Guardini a cui Borghesi dedica molte pagine e un capitolo intero è di grande importanza non solo perché è un riferimento che anch'io dal mio piccolo angolo visual di pastore e non di teologo avevo fatto già in diverse occasioni ma perché mi permette di passare al secondo concetto su cui vorrei soffermarmi ovvero la riflessione di Francesco sul potere del mondo contemporaneo e questa è una riflessione molto molto importante ci troviamo di fronte ad uno dei temi più importanti del pontificato come è ampiamente dimostrato nell'Evangelii Gaudium e nella Laudato Si che trova radici profonde nella sua biografia intellettuale anche su questo punto voglio essere estremamente chiaro chiunque accusi Francesco di essere populista o marxista dimostra non solo la sua mala fede e la proteglia ma soprattutto la sua ignoranza un'ignoranza fattuale e testuale su cui occorre meditare seriamente se non altro per la zizzania che è stata seminata e questa è la cosa che mi fa più dispiacere tra il popolo di Dio anche perché il vero oggetto su cui verte la riflessione del Papa è di tutt'altra natura Bergoglio infatti ha un pontefice fortemente critico nei confronti di una visione dogmatica e assolutistica che vuole un'economia capitalista svincolata da ogni legge etica così come si è venuta affermando negli ultimi decenni è una critica dura verso questa sorta di potere ingovernabile che Francesco proprio sulle intuizioni di Guardini ha chiamato come il paradigma tecno-economico tutto ridotto a tecnica tutto ridotto a economia basterebbe c'è qui il professore Grasselli qualche semplice esemplificazione per rendersi conto come noi di fatto siamo sotto questa dittatura tremenda ideologica un sistema di potere privo della tensione verso Dio e verso l'umano che riduce l'uomo e l'oicos l'ambiente la nostra casa comune a semplici oggetti da sfruttare in modo illimitato questa sorta di pensiero dominante al tempo stesso nichilista e consumista che è diventata anche un sistema di potere diffuso che produce ingiustizia e inequità rappresenta nella visione di Francesco una delle grandi sfide per il mondo cattolico dei nostri tempi io sono certo che fra cent'anni si dirà della laudato sì quello che noi oggi diciamo della rerum novarum di leone tredicesimo perché per quel po' di esperienza e di conoscenza che ho vi posso affermare che siamo su questo piano e su questo livello questa è la grandezza anche del papa che il signore ci ha dato non è quindi non c'è quindi in Bergoglio una rimodulazione ecclesiale del peronismo o pughismo come qualcuno vuol sottineare quanto una grande rinnovata attenzione per la questione sociale e per quella condizione diffusa di alienazione e sfruttamento di schiavitù in cui si trova a vivere l'uomo moderno quando è ridotto a scarto del sistema produttivo e quando il papa l'ho sentito più volte pronuncia questa parola gli scarti pensando che si tratta di creature umane gli vengono le lacrime agli occhi Bergoglio sviluppa infatti nel corso degli anni una teologia del popolo che opponendosi all'ateismo libertino e alla società opulenta ovvero alle correnti moderniste americanizzanti e marxiste riscopre dandogli un grande valore le tradizioni religiose popolari mi raccontava stamattina non facciamo nomi un frate francescano che ha ricevuto una lettera da lui per una piccola prefazione a un libro lo posso dire padre Giulio Michelini tanto lo conosciamo tutti ha predicato gli esercizi spirituali al papa mi ha detto la lettera c'è la sua lettera ma non so quanti santini ci sono quante novene san giuseppe la santa rita è bella questa religiosità religiosità semplice direi quasi da bambino del papa questa devozione dei santi tipicamente popolare e americana latina che lui rappresenta molto bene e della quale non si vergogna affatto la conferenza di apparissida tralascio qualcosa se no qui non finisco più nel 2007 e vengo al terzo ultimo punto è uno snodo di grande importanza per la chiesa universale nella biografia di Bergoglio rappresenta il punto di sintesi tra le idee di Ferré che aveva ormai fatte proprie e l'esperienza pastorale diretta che aveva vissuto nella stagione del rinnovamento ecclesiale in america latina a parissida e il pontificato di Bergoglio vanno letti insieme in forte fortissima correlazione non tanto e non solo in un'ottica di geopolitica ecclesiale ma come la realizzazione di uno sguardo profetico sul mondo in cui prendono forma molte intuizioni del passato annunciate da uomini di chiesa estremamente differenti da Giorgio Lapira a Paolo VI fino a Giovanni Paolo II la chiesa la chiesa del nuovo millennio come amava affermare Voitiva è una chiesa sempre più universale sempre più cattolica quindi sempre più aperta al sud del mondo e nella conferenza di a parissida e nell'elezione di Francesco prendono forma in modo nuovo e imprevisto la Populorum progressio di Paolo VI vedete che tutto è legato la ecclesi in America e la nuova millennio di Giovanni Paolo II e infine io ci vedo forse è un'opinione mia ma ce la vedo la cosiddetta storiografia del profondo di Giorgio Lapira che conosco abbastanza bene essendo un fiorentino mi spiego meglio facendo tre brevi considerazioni innanzitutto come ha dimostrato in questo libro borghesi Francesco è autenticamente un Papa sudamericano sebbene sia un figlio di migranti che lasciano l'Italia in povertà per cercare una speranza nel continente della Vergine Morena Bergoglio è profondamente caratterizzato da una formazione prettamente sudamericana che però come abbiamo visto è anche europea respira la vivacità e la tradizione del vecchio continente la gravità e l'eredità storica tutto questo complesso deposito culturale viene però declinato e riletto da un angolo prospettico nuovo l'America del Sud una periferia diremmo del mondo globalizzato il Sud del mondo e questa è la seconda considerazione rappresenta oggi anche solo da una prospettiva numerica una nuova realtà sempre più numerosa che non può non interrogare le chiese di antica tradizione ovvero quelle di Europa alcuni anni fa se ricordate io invitai ad Assisi a un convegno il professor Jackins conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi sulla demografia ecclesiale egli ci illustrò dei numeri eloquenti i due terzi dei cattolici del pianeta vive ormai nelle periferie del pianeta nel sud del mondo sono numeri che ci impongono una riflessione profonda ma che soprattutto venga l'ultima considerazione ci fanno riflettere meglio su Aparecida e Papa Francesco e ci fanno dire con sicurezza che non è certo un caso se dal Sud America negli ultimi anni è iniziata una nuova storia per la Chiesa e per il Papato perché a mio avviso di questo si tratta questo pontificato non è una semplice parentesi storica ma segna un passaggio d'epoca eccezionale di cui noi oggi riusciamo a cogliere solo alcuni tratti forse quelli più facili da comprendere ma come sempre capita la spiegazione più semplice non è quella giusta anzi in tale cambiamento d'epoca la spiegazione più semplice rischia di essere quella più forviante benvengano dunque e concludo gli studi approfonditi come questo di Borghesi un libro denso complesso ricchissimo un libro che va letto con attenzione e su cui occorre meditare attentamente il volume di Borghesi ha infatti il pregio non solo di sfatare molti luoghi comuni del villaggio globale un villaggio dove purtroppo tutti dal proprio computer si sentono in dovere di dire la propria banale verità al mondo intero ma anche il grande merito di restituirci con sapienza e intelligenza il bagaglio intellettuale del Papa un grande bagaglio che però quasi nessuno conosce oggi grazie a questo libro ne sappiamo tutti di più e forse possiamo riuscire a comprendere meglio e ad amare ancora di più la straordinaria figura di Papa Francesco per questo enorme servizio che ha reso alla Chiesa Universale voglio dire al professore Borghesi una sola parola grazie Massimo Feminenza ci ha aiutato a capire quanto sia complessa la semplicità di Papa Francesco ma anche un'altra cosa ha sottolineato come quest'area nuova che arriva da un continente diverso dal nostro vecchio occidente ci costringe ad accogliere un imprevisto a cui non eravamo preparati e spesso i misteri del Padre Eterno passano attraverso gli imprevisti che ci mette dentro la vita do la parola a Terron chiedendogli come si può accogliere questo imprevisto dentro la nostra contemporaneità buonasera grazie prima di tutto il Cardinale che ha voluto invitarmi a questa presentazione di cui partecipo molto volontieri per la stima e l'amicizia che ci lega con lui e con il Professor Borghesi mi onorano con questo invito il Cardinale ha finito ringraziando io comincio dobbiamo ringraziare il Professor Borghesi come lui ci racconta nel libro di aver lasciato da parte per qualche tempo la sua ricerca filosofica così che noi potessimo godere del frutto del suo prezioso lavoro il suo è un contributo come abbiamo sentito unico per andare alle radici del pensiero di Papa Francesco conoscere i suoi maestri gli incontri che hanno segnato il suo percorso la sua traiettoria intellettuale il valore di una indagine di questo calibro non consiste unicamente nel rispondere a una pur giusta curiosità di conoscere questa traiettoria di Jorge Bergoglio essa ha un valore unico perché ci aiuta a capire più profondamente e questo può essere l'interesse che ha per noi che forse siamo forse curiosi di capire come la profondità di certi passaggi del libro del Massimo ma che comunque ci possono aiutare a cogliere alcune delle cose che siamo abituati a vedere nel modo di muoversi del Papa perché non riguarda dunque solo al passato di una curiosità per la traiettoria che lui ha percorso ma soprattutto il presente e il futuro perché permette di capire la densità di quello di quella semplicità di cui parlava il Cardinale di quello che ciascuno di noi sperimenta ogni giorno nel proprio rapporto con il Papa vedendolo parlare osservando i suoi gesti i luoghi che decide di visitare le scelte che fa noi abbiamo davanti agli occhi la sua figura che vogliamo imparare ad accogliere desiderando di capire di più il suo modo di esprimersi le sue espressioni caratteristiche la portata dei suoi gesti e decisioni ovviamente è impossibile come vediamo per il volume di cui parliamo presentare una ricerca così ricca e profonda nello spazio di un breve intervento dunque proverò a suggerire alcuni punti che possano destare l'interesse di andare a leggere direttamente il libro questo libro diciamolo dall'inizio per dirlo con parole di Papa Francesco sfida quello storto pregiudizio per cui il Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica e filosofica potrebbe abbastare queste parole di una figura così autorrevole teologicamente e filosoficamente come Papa Benedetto per farla finita con questo pregiudizio storto il professor Borghesi documenta in modo sovrabbondante la mancanza di consistenza di questo pregiudizio mostrando l'autorevolezza delle figure che hanno contribuito alla formazione teologica di Bergoglio Papa Francesco è arrivato al pontificato in un momento di trasformazione radicali che lui ha definito con una espressione a tutti i familiari cambiamento d'epoca quindi qualcosa che non si può ridurre a nessuno dei cambiamenti grandi che la storia umana ha vissuto negli ultimi secoli della rivoluzione industriale a quella digitale stiamo davanti a qualcosa di più profondo come già aveva anticipato il Papa Benedetto si tratta del crollo delle antique sicurezze religiose diceva Benedetto XVI che nel passato sembravano reggere e che nel frattempo è diventato un fatto compiuto quali sono le conseguenze di questo crollo di cui Papa Benedetto ha parlato e quindi la continuità di impostazione ecco come lo descrive il Papa Francesco le conseguenze sono l'individualismo e l'esteticismo e l'estetismo postmoderno quando non il pragmatismo e un certo cinismo contemporaneo che sono il risultato storico il risultato della caduta delle certezze storiche della perdita del sento dell'azione umana come costruttrice di qualcosa che sia oggettivamente e concretamente migliore questo cambiamento ha queste conseguenze lo dice lui anche molto sinteticamente nell'Evangelio Gaudio il grande rischio è la tristezza individualista che nasce di questo crollo questa è dunque la sfida che il cristianesimo ha davanti a sé dice ancora il Papa al disincanto postmoderno presente non soltanto nella politica ma anche nella cultura nell'arte e nella vita quotidiana il cristianesimo ha ancora qualcosa da dire esiste qualche relazione tra il messaggio del regno e la storia concreta che viviamo tutti i giorni è evidente che a questo crollo non si può rispondere con quello che si è dimostrato già palimentare la riduzione del cristianesimo a etica o a discorso come lui insiste con due parole neoticismo e neopelagianesimo allora che bagaglio culturale ha ricevuto il Papa nella sua formazione per affrontare queste sfide perché così possiamo capire la portata della sua traiettoria intellettuale prima di tutto lui il Papa è un gesuita quindi ha una formazione gesuitica alle spalle e quindi è da lì come ha citato prima il Cardinale attraverso alcuni grandi maestri prima di tutto Sant'Ignato stesso e la sua l'esertizio spirituale che segnano la vita di ogni gesuita ma soprattutto la lettura che da questo esertizio ha fatto Gaston Fessard dove si rende palese qual è la tensione polare la spiritualità ignattiana è caratterizzata per una tensione polare e quindi caratteristica della spiritualità è il dinamismo dell'anima santa di Innazio che punta sempre all'ideale più alto Dio e si preoccupa soffra tanto dei particolari dei piccoli del piano divino questo rapporto questa tensione tra le cose piccole e la tensione dentro le cose piccole alle grandi all'ideale più alto Dio dirà un suo maestro fiorito rileggendo Offesard si è tratta di una tensione alla totalità in ogni particolare per riempire ogni particolare della totalità quante volte noi per capire questo non è una questione per grandi intellettuali quante di noi non desideriamo facendo la casalinga o passando tante ore davanti al computer o essendo all'ufficio o estando in casa con i bambini non li piacerebbe non soccombere nel piccolo a soffocare e aprire quel piccolo e ristretto spazio alla totalità questa è la tensione che Sant'Ignazio introduce negli esercizi questa è la tensione propria della vita cristiana la radice dice ancora della tensione porale dunque è nella stessa spiritualità e teologia di Ignazio un pensiero in movimento che confida nella riconciliazione opera del Dio sempre più grande che cosa c'entra questa tensione con le sfide del presente proprio che adesso vediamo quante volte ci troviamo nel presente con questa polarizzazione la polarizzazione che vediamo prevalere sempre di più nella società che porta allo scontro alla radicalizzazione delle posizioni rendendo sempre più difficile l'incontro con l'altro è proprio sfidata da Papa Francesco con questa tensione questo atteggiamento non è qualcosa di temperamentale o di strategico o di caratteriale in Papa Francesco per essere in grado di interlocuire con tutti ma ha la sua radice nella convinzione profondamente radicata che Dio è sempre maggiore dei nostri schemi e dei nostri schieramenti che sempre sono molto più soffocanti questo fondamento non è pertanto una cosa che è lì come una scritta senza valore Dio è sempre più grande anche nel modo di guardare la realtà possiamo noi guardarla con questo orizzonte che ci fa respirare questo fondamento consente di non chiudersi ma di avere uno sguardo che è in grado di abbracciare quello che ad altri può parere scludente questo atteggiamento gli permette di non restare incastrato nelle polarizzazioni passate come quelle per esempio che ho vissuto nell'Argentina negli anni 70 o quelle più recenti che vediamo adesso chi avrei mai pensato dopo la caduta del muro di Berlino di ricostruire muri in Europa dice Papa noi siamo divisi perché la nostra adessione agli uomini è stata sostituita dalla adessione a sistemi e ideologie solo un radicamento profondo nel Dio sempre maggiore può liberare all'uomo degli estremismi e aprirlo al riconoscimento del vero ma come raggiungerlo che cosa trova lui nella sua spiritualità innaziana che le aiuta nella contemplazione degli eserciti San Innazio dice che dice all'esercitante di immaginare la scena evangelica come se fosse presente tutti quanti abbiamo fatto eserciti spirituali io ho fatto tanti da quando sono entrato da piccolo il seminario perché tutti gli anni li facevamo saprevamo che cosa voleva dire questo applicati di cuore con amore e con attenzione a tutto ciò che il Signore ha detto e ha fatto tutto quello che leggiamo nell'Evangelio rendilo presente come se tu lo ascoltassi con le tue orecchie e lo vedessi con i tuoi occhi e anche se tutto viene raccontato al passato tu meditalo come se fosse presente oggi perché possa allargare lo sguardo perché possa spalancarti sempre di più con la sua presenza con gli occhi dice von Balthasar dell'immaginazione si guardino le persone si percepisca con l'udito cosa dicono e cosa possono dire si odori si assaggi con l'olfato con il gusto con la dolcezza si tocchi con il tatto vediamo poi che cosa significa questo per il Papa il luogo dove queste persone mettono il loro piede e dove riposano conoscere per lui non è una cosa intellettuale slegata di questa conoscenza affettiva dove è coinvolta la totalità della persona non solo l'intelletto non solo una parte di sé o la volontà nel fare ma che è coinvolto tutto come succede nel reale quando siamo affascinati in una persona che ci travolge la totalità del nostro io altrimenti non è conoscenza e questa contemplazione quindi richiere questa immedesimazione da qui da questa immedesimazione e queste come se da cui il Papa ha dato tanto espatto e sfoccerà tutta l'attività del Papa come in Gesù e sfoccia del rapporto col Padre Gesù ripresa a parlare e disse loro in verità in verità io vi dico il figlio da sé stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare al Padre quello che gli fa anche il figlio lo fa allo stesso modo Papa Francesco dice il professor Borghesi è un mistico che è radicato costantemente in questo immergersi non soltanto pensare immergersi con tutto se stesso in quello che il Vangelo racconta insieme a tutta questa tradizione gesuitica a cui appartiene c'è tutta la formazione teologica delle persone con cui si imbatte intellettualmente la portata dell'influsso di certe figure e sovregoglio la possiamo cogliere molto meglio oggi che forse in altri momenti dove forse questi contrasti che vediamo adesso non sono così palesi tutti vediamo il contrasto le polarizzazioni la contrapposizione amico nemico se sei contro con me non sei contro di me l'antitesi ponti e muri la globalizzazione e gli scarti possiamo fare una infinità di queste contrapposizioni se vivo io devo essere accorto di eliminare te in questo contesto possiamo capire l'importanza di quello che vergoglio imparò dai suoi maestri sulla polarità sulle polarità Eric Prisguara uno di questi diceva ciò che di cui abbiamo bisogno è una filosofia della polarità di una tensione mai solta tra due poli le stesse impostazioni poi la riscopre la profondità vergoglio in romano guardini lui parlava di una opposizione polare dice il papa in cui i due opposti non si annullano non è che per sopravvivere dobbiamo eliminare l'altro non si non avviene neanche che un polo distrugga l'altro non c'è contraddizione in identità per lui l'opposizione si risolve in un piano superiore che Dio l'altro non appare come avversario o come opposto guardate cosa significa questo oggi dove la contrapposizione è talmente forte la teoria dell'opposto è la teoria del confronto che non avviene come lotta contro un nemico ma come sintesi di una tensione feconda cioè come costruzione dell'unità tanti degli autori che ha approfondito hanno questa impostazione Meller Guardini Prisguara Dell'Ivac il modello dunque che lui propone non è la sfera dove tutti i particolari sono eliminati per affermare l'unità ma è il poliedro in cui la unità e la figura mantiene l'originalità delle singole parzialità possiamo poi rintracciare la portata di queste lezioni nel quattro principi cardine che lui riporta nell'Evangelio Gaudio che sono qui a portata di mano l'opposizione polare non ha come scopo sopprimere qualcosa ma sottolineare la tensione mettere in evidenza il rapporto interno tra le due poli che sembrano in confitto senza sopprimere la tensione ideale pensiamo per esempio il tempo è superiore allo spazio è uno di questi principi che cosa significa che uno comincia a rendersi conto che dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi noi pensiamo che noi ce la caviamo di più occupando gli spazi del potere o imponendo una certa posizione invece come come fa Gesù come fa San Paolo aprire processi che avranno molto tempo perché possano sviluppare e cambiare rispettando il ritmo e la libertà della persona che cosa significerebbe questo per una società così in contraposizione come la nostra in tutti gli ambiti del vivere sempre più conflittiva o che la unità prevale sul conflitto è più grande perché è più grande è accettare di sopportare il conflitto di risolverlo non eliminando l'altro ma percependo l'altro come qualcosa che collabora che collabora a capire di più quello che lo risolve e allora l'altro è un bene non qualcosa da eliminare o che la realtà è superiore alla idea questo criterio legato all'incarnazione in questa modalità Dio è diventato carne perché così potessimo raggiungere meglio come vedremo dopo il centro dell'io e poterci portare perché il tutto è superiore alla parte solo accennare cose che non riguardano solo come a una riflessione solo per qualche esperto ma che se uno lo prende sul serio può illuminare la vita di tante cose dove non sappiamo come uscire se non è attraverso la contraposizione perché se non lo lo prendo qui e ora se non lo risolvo qui e ora non l'asfalto qui e ora non riesco invece introdurre un un processo aprire un processo che nel tempo possa verificare sempre più adeguato pensare nell'educazione pensare ai figli pensare al rapporto con la moglie ai rapporti con i colleghi in ogni ambito che cosa potrebbe diventare la vita invece che solo la contraposizione c'è un altro capitolo che ci ha citato prima il cardinale del dialogo con Mettol Ferrer questo grande pensatore della latinoamerica con cui Bergoglio approfondisce la sfida della modernità nella Chiesa come soggetto storico e passando a rivista i tentativi fallimentari emerge come la unica realtà la Chiesa come l'unica realtà storica in grado di poter rispondere al desiderio di liberazione che non può essere altro che il cristianesimo vissuto come vedremo dopo a partire della seconda metà degli anni 90 scrive il professor Borghesi è possibile notare in Bergoglio una accentuazione di fattori estetici il vedere il toccare che erano già presenti lo sguardo sappiamo dello stesso Bergoglio dell'influsso che ha avuto una figura teologica di così tanto relieve come quella di Fon Balthasian soprattutto il suo capitolo è dedicato a Sant'Ireneo di Lione padre della Chiesa nello stesso periodo Bergoglio riconosce che la lettura degli scritti di Monsignor Luigi Giussani ha fatto bene alla sua vita lo ha detto in tante occasioni lo documentano la presentazione di diversi libri di Don Giussani concetti come cuore realtà come segno esperienza incontro attrattiva misericordia morale come risposta diventano sempre più familiare all'allora arcivesco di Buenos Aires nel rappresentare il libro dice in una delle presentazioni di Monsignor Giussani il senso religioso non compie un gesto di protocollo formale né un gesto di curiosità scientifica ma un doveroso atto di gratitudine da molti anni gli scritti di Monsignor Giussani hanno ispirato la mia riflessione dirà nel 1998 nel 2000 presentando l'attrattiva Gesù dice ho accettato il presentare questo libro per il bene che negli ultimi dieci anni questo uomo ha fatto a me alla mia vita di sacerdote attraverso i suoi libri e i suoi articoli ecco alcuna riflessione di Giussani a partire dai testi di Giussani Giuditti che è divenuto Papa ripeterà ancora in Piazza San Pietro il 7 di marzo 2015 tutto nella nostra vita oggi come al tempo di Gesù incomincia con un incontro un incontro con questo uomo il Fagname di Nazareth un uomo come tutti allo stesso tempo diverso i primi Giovanni Andrea Simone si scoprirono guardati fin nel profondo letti nel loro intimo e in essi si è generata una sorpresa un stupore che immediatamente li faceva sentire legati a lui e li faceva sentire diversi non si può capire questa dinamica dell'incontro che suscita lo stupore e l'adesione su di essi se non è fatto scatare perdonatemi la parola il grilletto della misericordia solo chi ha incontrato la misericordia chi è stato accarezzato della tenerezza della misericordia si trova bene con il Signore quante volte se l'abbiamo visto ripetere di recente nell'anno della misericordia e rincara ancora la dose stiamo parlando dell'anno 2000 il luogo privilegiato dell'incontro è la caretta della misericordia di Gesù Cristo verso il mio peccato di fronte a questo abbraccio di misericordia continuo secondo le linee del pensiero di un santo dice il Papa viene proprio voglia di rispondere di cambiare di corrispondere sorge una moralità nuova ci poniamo il problema etico una etica che nasce dall'incontro da questo incontro che abbiamo descritto fino ad ora la morale cristiana quindi non è un esforzo titanico volontaristico lo esforzo di chi decide di essere coerente cirriese una sfida solitaria di fronte al mondo no la morale cristiana è semplicemente risposta è la risposta commossa davanti a una misericordia sorprendente imprevedibile ingiusta scrive per questo la contezione cristiana della morale è una revoluzione non è un non cadere mai ma alzarsi sempre niente a che vedere con i quietismi spirituali e spirituali e neppure con il pelagianessimo ma ancora nella prefazione scritta da papa francesco per il libro il tempo della chiesa secondo san costino di don giacomo tantardini leggiamo quella descrizione bellissima che ha fatto un incontro evangelico come quello di zacheo l'immagine per me più suggestiva di come si diventa cristiano così come emerge in questo libro è il modo con cui agostino racconta e commenta l'incontro di gesù con zacheo zacheo è piccolo e vuole vedere il signore che passa e allora si arrampica sul sicomoro e racconta agostino e il signore guardò proprio zacheo zacheo fu guardato e allora vide colpisce questo triplice vedere quello di zacheo quello di gesù e poi ancora quello di zacheo dopo essere stato guardato dal signore lo avrebbe visto passare anche se gesù non avesse saltato gli occhi come in giacomo ma non sarebbe stato un incontro avrebbe magari soddisfatto quel minimo di curiosità buona per cui era salito sull'albero ma non sarebbe stato un incontro qui è il punto alcuni credono che la fede e la salvezza vengono col nostro sforzo di guardare di cercare il signore invece è il contrario tu sei salvo quando il signore ti cerca quando lui ti guarda e tu ti lasci guardare e cercare il signore ti cerca per primo quel primerea che poi ci è diventato familiare nell'arco di tempo che va dalla fine degli anni 90 ai primi della 2000 scrive il professor Borghesi Bergoglio mette a fuoco le categorie che ritroveremo al centro della stessura del documento finale a cui faceva riferimento prima il cardinale del congresso della chiesa latinoamerica d'apparecita nel 2007 la idea di fondo è data dalla formula che Bergoglio trova esemplarmente descritta nella Deus Caritas Est di Benedetto XVI all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea vensì l'incontro con un avvenimento con una persona che dà alla vita un nuovo rizzonte e conciò la direzione decisiva e la formula riportata nell'introduzione del documento conclusivo di apparecita ha un sapore decisamente giussaniano scrive Borghese il fatto che sia presente Benedetto XVI e di seguito sia ripresa da Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium le conferisce un valore particolare e se indica il punto di partenza della fede ieri come oggi e insieme un giudizio storico sulla deriva eticista che caratterizza il cattolicesimo nell'era della globalizzazione terminata la stagione calda dell'impegno storico di sinistra tipico degli anni 70 caratterizzati della teologia politica della rivoluzione si assiste a partire degli anni 80 scrive il professor Borghese a una sorta di riflusso di ripiegamento in un recinto protetto l'impegno nel mondo è affidato alla difesa di un insieme definito e selezionato di valori discendenti dall'etica e dell'antropologia cristiana minacciati dall'onda relativista relativistica che caratterizza il tempo nuovo il processo di secolarizzazione determina nel mondo cristiano una reazione etica la Chiesa si oppone ma non è in grado di porsi positivamente di affermare una tipologia umana nella quale l'attrattiva a Gesù sia più forte dell'attrattiva estetica della società opulenta questa è la sfida che il cristianismo ha avanti oggi la deriva etica della Chiesa indica una strategia di resistenza non un'era di rinascita questo sbilanciamento permette di chiarire la correzione che apporta nell'Evangelio Gaudium il Papa Francesco si tratta di rimettere in evidenza ciò che primerea cioè la grazia di un annuncio quello che attira quello che affascina e che muove la totalità dell'Evangelio occorre ritornare all'essenziale quante volte l'ha ripetuto Papa Francesco in questi anni una pastorale missionaria non è ossessionata della trasmissione disarticolata di una moltitudine delle dottrine da imporre con insistenza l'annuncio si concentra sull'essenziale sul necessario che è ciò che appassiona e attira di più ciò che fa ardere il cuore come dice Prodeimos tutto questo processo finirà per determinare i lavori di quel evento ecclesiale che è il congresso di Apparezzida tutti quelli che erano presenti al lavoro del congresso sono consapevoli dice allora Apparezzida che le nostre tradizioni anche loro appartenevano alla tradizione cattolica tutte le tradizioni culturali non si trasmettono più da una generazione all'altra con la fluidità del passato perciò sentono l'ugenza di ritrovare e rivitalizzare la novità del Vangelo radicata nella nostra storia a partire di un incontro personale non basta il tran tran perché si trasmettono occorre un incontro personale comunitario con Gesù Cristo che suscita i discepoli missionari e queste sono le pagine che sono la chiave di quel documento basta leggere questo tutto il processo che ha dovuto passare la chiesa latinoamericana è stata la occasione per approfondire la natura del cristianesimo la natura estesa del cristianesimo consiste dice apparecida nel riconoscere la presenza di Gesù Cristo che seguirlo questa fu la bella esperienza di quei primi discepoli che incontrando Gesù rimassero affascinati e pieni e pieni di stupore davanti alla figura estraordinaria di chi parlava loro di fronte al modo in cui li trattava dando così risposte alla fame e a sete di vita dei loro cuori l'evangelista Giovanni continua ci ha raccontato con forza icastica l'impatto che la persona di Cristo produsse nei due primi Giovanni e Andrea che lo incontrarono tutto comincia con la domanda che cercate alla quale fece seguito l'invito a vivere un'esperienza venite e vedete questa narrazione finisce questo pezzo di Aparecida rimarrà nella storia come sintesi unica del metodo cristiano questo è quello che il Papa farà allora che cosa su che cosa insiste Aparecida occorre che questa presenza divente carnale di nuovo storicamente attraverso testimoni Papa Francesco è proprio il testimone che Dio ci ha mandato di questo metodo cristiano perché perché attraverso i gesti e le parole semplici a portata di mano di tutti come erano i gesti e le parole di Gesù possono raggiungere chiunque di noi e per questo è in grado di intercettare le ferite del nostro tempo mentre che noi per questo ci sfida tutti noi europei come ha detto il cardinale Scuola siamo abituati noi europei a per il fatto di essere eredi di visioni interistalistiche e dottrinalistiche a sentire come che le manca di profondità ma è soltanto perché siamo abituati a un certo argomentatario ma non perché questo non è sfida perché questo invece è quello che sfida di più la ragione e il cuore delle persone che incontra perché 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 noi come aveva descritto il grande teologo von Balthasen e tutti possiamo capirlo adesso molto meglio in un mondo dice von Balthasen senza bellezza senza qualcosa che attire la totalità dell'io anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione l'evidenza del suo dover essere adimpiuto e l'uomo lo vediamo nei tosti contemporanei nei figli l'uomo resta perplesso di fronte ad esso gli argomenti in favore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica non muovono il processo che porta alla conclusione è un meccanismo che non inchioda più nessuno e la stessa conclusione non conclude più questo è l'ascia indifferente questo è quello che il Papa con sui gesti cerca di comunicare a tutti per questo chi non lo capisce perché non si rende conto che tanti delle parole non inchiodano più la gente pensa che ripetendo certe formule in fondo potesse raggiungere no non inchiodano più per questo ricordo una frase di Giussani che diceva come l'uomo di Gesù di Nazareth non le potevano vedere un gesto senza che la sua forma dimostrasse tutto questo fascino perché aveva dentro la coscienza del Padre e questo che a lui ci testimonia è quello a cui siamo noi chiamati perché così come si può vincere questa separazione proprio della modernità tra ragione ed emozione solo una cosa del genere può una presenza talmente affascinante attrattivamente affascinante può trascinare può rispondere alla attesa di tutti noi e può intercettare tutte le ferite dell'uomo siamo arrivati di questa immersione nel come sì di Sant'Ignat a questa carnalizzazione questa incarnazione del Vangelo nel presente nel testimone che può veramente trascinare finisco semplicemente con una aneddota personale io ero stato educato anche al come sì e ho capito la differenza a cui adesso il Papa insiste quando incontrando testimoni sono stato anche io trascinato mi ricordo in una serata agli esistiti spirituali che io questa immagine che ho citato apparecita io mi sono andato a contemplare quella immagine come immersi per ore fino alle due di notte ma quello non era in grado di affascinare come un testimone il passaggio che ha fatto il Papa senza dover di sminuire quella cosa lì ma non per questo il mistero è diventato carne per mettere davanti un fassino che potesse veramente attrarre il cuore per questo la sfida che abbiamo davanti noi è poter mettere davanti a tutti questo quello che lui fa con questo toccare guardare interlocuire con le persone perché possano attraverso di loro attraverso dei suoi gesti toccare la carne di Cristo oggi grazie grazie la parola all'autore la mia curiosità è anche una reazione su quanto hai sentito dalle relazioni no innanzitutto vorrei ringraziare ovviamente per per le cose belle che ci hanno detto su eminenza il cardinale Bassetti e Julian Carron grazie davvero ad ambe due per il tempo che hanno dedicato alla lettura del libro per l'attenzione per gli spunti che ci hanno offerto per le parole che hanno detto grazie anche a Beppe che si è prestato a sostituire il nostro Alessandro Banfi che non è qui con noi e grazie vorrei dire anche alle associazioni alla Beata Colomba alla Diocesi e all'associazione al Centro Culturale Maestà delle Volte che hanno sostenuto e poi un grazie particolare a tutti voi che siete qui e insomma è un bel gesto è questa compagnia che ci fate nella presentazione di questo volume io ho deciso di scrivere questo libro quando il livello degli attacchi contro Papa Francesco aveva raggiunto un livello parossistico e cioè intorno al maggio giugno del 2016 come sappiamo gli attacchi non sono finiti anche se forse mi illudo ma mi sembrano meno virulenti rispetto a qualche mese passato però intorno al maggio giugno era proprio bastava aprire i blog facebook e tutto il resto era una valanga quotidiana questi siti che iperattivi dove sul Papa si diceva di tutto e di più no? soprattutto dopo la pubblicazione della Moris Letizia sulla famiglia il matrimonio che viene pubblicata l'8 aprile del 2016 poi i dubbia i famosi dubbia dei cardinali bescovi non si era mai visto e non si è mai visto un attacco così a un pontefice lo so che anche Paolo VI Giovanni Paolo II Benedetto XVI lo sappiamo hanno avuto attacchi hanno avuto momenti anche no? però io per la mia esistenza non ho mai visto degli attacchi a questo livello a questo livello gente che gente che è totalmente ignorante di teologia di pensiero di chiesa di storia della chiesa di diritto canonico non sa nulla di nulla che spara 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 è una forma di patologia ossessiva pilotata evidentemente da dei gruppi da dei siti da dei poteri che non si limitano semplicemente all'Italia vengono da fuori ad un pontefice che nell'arco di cinque anni ha letteralmente mutato lo sguardo mondiale sulla chiesa perché tutti abbiamo la memoria corta purtroppo nell'epoca di internet del bombardamento continuo le notizie vanno e vengono e durano un giorno quelle del giorno prima già ce le siamo dimenticate figuriamoci cinque anni fa cinque anni fa la chiesa quando Benedetto esausto in tutti i sensi ha dato le dimissioni con questo gesto assolutamente rivoluzionario altro che papa tradizionalista con questo gesto assolutamente rivoluzionario che in cui un papa ha la forza il coraggio il suggerimento dello spirito di dare le dimissioni perché non ce la fa semplicemente non ce la fa e non ce la fa fisicamente e non ce la fa di fronte a una chiesa che avrebbe richiesto energie forze vigore perché i malanni certamente erano tanti ce lo siamo dimenticato che cinque o sei anni fa la chiesa doveva essere portata davanti al tribunale internazionale dell'ONU per le questioni della pedofilia dei preti che la chiesa rischiava di essere accusata come criminale sul piano che i genitori avevano paura di mandare addirittura i figli in cinque anni in quattro anni allora in cinque anni oggi il papa ha totalmente cambiato l'immagine della chiesa nel mondo è bastato questo papa per far cambiare mentalità giudizio a milioni e milioni di persone già questo richiederebbe un movimento di gratitudine se non altro ecco quello che doveva essere un titolo di merito è diventato in realtà per questi gruppi per questi social un motivo di condanna perché il ragionamento è questo se è così gradito al mondo allora vuol dire che si è venduto vuol dire che ragiona come il mondo vuol dire che è modernista vuol dire che è progressista vuol dire che vuol dire che e così invece di dirgli grazie no continua l'ingiuria c'è qualcosa di perverso in tutto questo un livello di perversione che è dentro la chiesa non è fuori molti cattolici sono dentro un livello di perversione mentale innanzitutto è una questione nel cuore evidentemente ma è una questione anche di testa questi non sono più capaci di ragionare non hanno più un pensiero cattolico non esiste più un pensiero cattolico allora con una miopia unica perché Francesco in realtà è in viso per lo più ai poteri forti del mondo se c'è un punto di resistenza oggi nella scena mondiale a un processo di globalizzazione senza regole e senza morale è la figura di questo Papa è l'ultima grande figura morale nel mondo i politici avrebbero da imparare a piene mani da questo modello di essere dentro la storia e dentro la società ma non lo fanno è come se tutto il cattolicesimo anticonciliare avesse trovato il suo capro espiatorio e sì perché negli ultimi anni è ritornato un cattolicesimo che sembrava sepolto dal concilio vaticano secondo e invece è ritornato è ritornato in auge è ritornato anche a seguito della crisi della democrazia odierna perché la democrazia degli anni sessanta con cui dialogò il concilio era una democrazia carica di valori che appassionava la democrazia di oggi è una democrazia relativista secolarizzata che allontana e allora anche i cattolici sono tentati di rifiutare il mondo la società di chiudersi nel ghetto di non portare più il loro contributo per il bene comune ma di fare semplicemente squadra nel senso di un mondo chiuso quest'odio non è una critica è una patologia personalmente avevo conosciuto Bergoglio nel 2008 a Buenos Aires ma era stato un incontro molto breve e forse anche poco significativo per me ma lo avevo rivisto poi a San Lorenzo al Verano negli anni successivi a Roma perché quando veniva da Cardinale a Roma passava spesso per quella parrocchia dove io andavo il sabato sera alla messa perché era diventato amico del mio parroco del mio prete che si chiamava Don Giacomo e quindi in tre quattro cinque occasioni ricordo anche una cresima per i bambini ricordo che mi colpì questo straordinario linguaggio con cui parlava ai bambini di una bellezza di una semplicità assoluta riusciva a parlare ai bambini in maniera perfettamente comprensibile senza essere banale e poi ricordo altre sue prediche con questo stile sobrio evangelico pieno di cuore breve senza annoiare nessuno e poi ricordo i suoi articoli le sue interviste sulla rivista internazionale 30 giorni dal 2002 in avanti rivista che io leggevo e a cui collaboravo quindi mi colpiva sempre questo quindi l'ho sentito vicino naturalmente quando è stato eletto papa sapevo chi era questo papa parroco del mondo di cui la chiesa aveva un straordinario bisogno e anche benedetto in qualche modo lo era stato ma con Bergoglio era più adeguata forse questa immagine l'ho seguito attentamente con la curiosità di capirlo mi avevano colpito gli scritti degli anni 70 che avevo letto dove nella prima metà degli anni 70 lui era il più giovane provinciale dei gesuiti in Argentina 36 anni in una situazione politica esplosiva di cui poi dirò Bergoglio ha il compito di tenere unita la compagnia di Gesù che è dilacerata al proprio interno ed è divisa tra l'ala di destra e quella di sinistra ebbene lui lì in quegli scritti sviluppa un pensiero assolutamente originale che era quello che è stato accennato sia dal cardinale che da Julian Caron un pensiero della polarità vivente un pensiero per cui la chiesa è l'unità degli opposti mi aveva colpito moltissimo perché io avevo studiato a lungo Romano Guardini il suo pensiero filosofico e trovavo delle straordinarie analogie con il pensiero di Bergoglio ma Bergoglio non citava mai Romano Guardini in secondo luogo avevo letto quella che secondo me non mi stanco di dirlo è la miglior biografia di Horg Mario Bergoglio disponibile ed è quella di un giornalista inglese che si chiama Austin Iverite in italiano è edita da Mondadori con il titolo Tempo di misericordia vita di Horg Mario Bergoglio la consiglio a tutti chi vuol conoscere il Papa deve leggere questa biografia si legge benissimo non è difficile è molto documentata è seria ed è appassionante chi vuol conoscere il Papa deve documentarsi su chi è stato e chi è Horg Mario Bergoglio ebbene da quello che scriveva e scrive Heverite ne viene fuori un'immagine di Bergoglio che innanzitutto sfata tutti i luoghi comuni che sono stati costruiti da tanta bibliografia su di lui esempio il Bergoglio progressista o in Argentina dicono il Bergoglio conservatore ambedue queste etichette non funzionano con Bergoglio vi leggo solo un breve passo di Heverite che vi fa capire bene cosa intendo scrive il radicalismo di Bergoglio non va confuso con la dottrina o l'ideologia progressiste è un atteggiamento radicale perché è missionario e mistico Francesco è istintivamente e visceralmente contrario ai partiti nella Chiesa ed è convinto che il papato affondi le radici nel cattolicesimo tradizionale del santo popolo fedele di Dio e in particolare nei poveri non scenderà mai a compromesso sulle questioni scottanti che dividono la Chiesa dall'occidente laico un divario che i progressisti amerebbero colmare modernizzando la dottrina tuttavia egli non è nemmeno come risulta altrettanto evidente un papa della destra cattolica non userà il pontificato per combattere battaglie politiche culturali che ritiene debbano essere combattute a livello diocesano ma se ne servirà per attirare ed insegnare né ritiene necessario ripetere all'infinito ciò che è già noto anzi desidera porre l'accento su quanto è stato in parte dimenticato la paterna bontà e la clemenza misericordiosa di Dio e mentre i cattolici conservatori vorrebbero parlare di più di temi etici che di temi sociali è felice di fare proprio l'opposto ossia recuperare un cattolicesimo come indumento senza cuciture ecco in questa frase di Iverheit c'è già tutta la posizione originale non inquadrabile di Bergoglio questa persuasione mi ha portato nell'estate del 2016 all'idea del volume senza la biografia di Iverheit ve lo confesso non sarei stato in grado di scriverlo perché tutta la messa di informazioni lì contenute sono preziosissime e ebbe allora un colloquio con Guzman Carichiri che è la persona che poi ha introdotto il volume Carichiri è il vicepresidente della pontificia commissione per l'America Latina la più alta autorità laica in Vaticano è un mio caro amico ed è amico anche personale di Bergoglio da tanto tempo da lunga data al meeting di Rimini di quell'anno ci siamo visti a pranzo ne abbiamo discusso e lui era entusiasta dell'idea che potessimo fare che io potessi scrivere questo libro per rispondere a queste critiche che presentavano il Papa come appunto il dilettante allo sbaraglio il latinoamericano populista pericoloso progressista filomarsista di tutto e di più no? eccetera e quindi è nata l'idea di questa biografia intellettuale perché perché avevo letto già gli iscritti del Papa in parte perché ne conoscevo in parte il pensiero perché avevo letto Iverheit e ero convinto che il Papa aveva un pensiero originale non da catto non di seconda categoria no? quindi Bergoglio non era solo un parroco di campagna inadeguato no? ma non era solo per dimostrare che il Papa aveva una sua cultura che mi interessava scrivere il libro ma anche per mostrare che aveva un pensiero cattolico cioè non un pensiero strano ai limiti ai bordi della Chiesa no? un pensiero dentro la grande tradizione della Chiesa diciamo così no? tra l'altro una come dire quando il libro è uscito sono uscite anche numerose numerosissime devo dire recensioni di ogni tipo la cosa che mi ha fatto molto piacere è che dopo questo libro o meglio chi ha letto poi il volume tra i critici più insistenti di Bergoglio non ha potuto trovare una sola riga che potesse essere criticata questo mi ha fatto molto piacere ovviamente cioè i critici di Bergoglio non hanno potuto obiettare sulla serietà del lavoro hanno dovuto riconoscere che Bergoglio aveva una struttura intellettuale i più radicali sono arrivati a dire per poter dire no ma Borghese ha messo ha dato come dire a Bergoglio quello che lui non avrebbe nel senso che ha fatto più bello della realtà quello che no per tentare di di sormontare la il come dire tra questi Magister e un altro l'ho letto proprio venendo in treno qui qui a Perugia oggi una recensione in inglese ma è di un vaticanista italiano dove dice no ma Borghese ha messo un pensiero troppo perfetto in fondo Bergoglio è un pragmatico questi no si arrampicherebbero sugli specchi pur di poter dire in realtà io non ho messo nulla in bocca Bergoglio che non abbia detto o pensato o scritto Bergoglio al punto che lo posso anche anticipare il Papa alla conclusione del lavoro quando gli è pervenuto tra le mani poi mi ha chiamato ringraziandomi e mi ha detto mi ha confessato che era rimasto sorpreso naturalmente perché il Papa non è un intellettuale di mestiere né io volevo fare del Papa un intellettuale non è questa la finalità del libro e dopo avermi detto che era rimasto piacevolmente sorpreso mi ha detto che ha apprezzato molto il rigore intellettuale del volume poi alla fine mi ha detto sì e però è proprio così cioè lui stesso si è riconosciuto nella nella traccia che io ho dato dell'evoluzione della formazione del suo pensiero ed era una lieta sorpresa da come potevo intuire per lui stesso in realtà il lavoro è stata una scoperta continua la prima la più importante è quella del pensiero polare pensiero polare vuol dire un pensiero che è cattolico perché tutto il pensiero cattolico si fonda su una polarità che tiene insieme gli opposti la chiesa è una grande unità degli opposti pensate i carismi le diversità che ci sono dentro la chiesa gli orientamenti le sensibilità c'è chi è più in un modo chi più in un altro insomma ebbene questa unità è una unità di opposizioni la chiesa è una complexi oppositorum ma non in tutti è chiaro questo ebbene in Bergoglio questo è proprio un chiaro modello di orientamento per esempio negli anni settanta il giovane provinciale tiene unito quello che Paolo VI aveva affermato cioè l'unità tra evangelizzazione e promozione umana poiché la chiesa allora si divideva tra la destra che parlava soltanto un messaggio spirituale fuori del mondo e la sinistra che teorizzava un impegno radicale dentro il mondo per cui il momento invece dell'annuncio o della preghiera non aveva più nessun significato e Bergoglio il giovane Bergoglio afferma con i suoi gesuiti che la chiesa deve tenere questi due poli uniti contemplazione e azione contemplativo nell'azione questi due momenti vanno nella stessa persona il mistico è uomo che si impegna nel mondo e chi si impegna nel mondo deve essere mistico no contro il prassismo della teologia della liberazione lui afferma questa unità tra contemplazione e azione sapete che allora la teologia della liberazione in america latina aveva sposato il metodo marxista e quindi teorizzava il primato della prassi e Bergoglio dice no contemplazione e azione vanno insieme devono essere insieme e la sua riforma della teologia della liberazione si chiama teologia del pueblo è la risposta della scuola del rio della plata alla teologia della liberazione dell'america latina la scuola del rio della plata che ha in padre Lucio Hera che Bergoglio farà seppellire nella cattedrale di Buenos Aires come riconosciuto maestro Lucio Hera elabora una teologia della liberazione senza marxismo quindi una teologia della liberazione che si fonda sulla teologia del pueblo fiel come lo chiama Bergoglio Bergoglio altro che populista non usa la categoria del pueblo come se fosse il popolo mistico no lui dice pueblo fiel il popolo credente e il discorso della giustizia deve affondare le sue radici nella fede vissuta e praticata del popolo perché la giustizia nasce dalla fede ed è il popolo nelle sue tradizioni popolari nelle sue processioni nel modo come affronta la vita la morte il dolore la nascita è il popolo come popolo credente che la gerarchia deve rispettare perché lui dirà cosa deve credere il popolo lo insegna la gerarchia ma come credere i preti lo devono imparare dal popolo che crede quindi la teologia della liberazione diventa una teologia del pueblo volta verso la giustizia e con l'opzione preferenziale per i poveri che è l'opzione di tutta la chiesa dell'America Latina da Medellin da Puebla in avanti non è un'invenzione di Bergoglio la opzione preferenziale per i poveri è chiaro chi quando sente la parola poveri pensa al marxismo vuol dire che ha dimenticato interamente la dottrina sociale della chiesa e vuol dire che non conosce nulla della chiesa dell'America Latina in quanto tale un'altra polarità città di Dio città del mondo Bergoglio non confonde il regno di Dio con la città terrina come spesso gli hanno fatto dire le distingue in maniera netta mi ha colpito moltissimo i suoi scritti degli inizi del 2000 dove lui torna su Sant'Agostino più volte citandolo come modello le città sono due e sono diverse e non si identificano con la chiesa e lo stato perché sono perplexe fino alla fine del mondo e quindi il modello agostiniano diventa un modello attuale nel presente mi ha colpito moltissimo questo perché contro quelli che affermano che tra Ratzinger e Bergoglio c'è un'antitesi Bergoglio usa lo stesso criterio di lettura di Sant'Agostino operato da Ratzinger nei suoi studi su Sant'Agostino con una distinzione netta tra la città secolare e la città di Dio non è un populista ha chiaro la distinzione degli ambiti tra la grazia e la natura tra la civitas dei e la civitas mondi come tal ancora un'altra opposizione polare centro periferia la periferia la impara c'era stato ricordato dall'Amelia Podetti era lei che gli ha insegnato la categoria della periferia non nei discorsi del terzo mondismo perché l'Amelia Podetti che è la più grossa pensatrice argentina degli anni settanta una vera con una statura intellettuale di primo livello aveva studiato a Parigi conosceva benissimo il pensiero europeo lo mette a contatto con quello latino americano Bergoglio ha una grande ammirazione per Amelia Podetti e da lei impara la categoria di periferia perché la periferia è un altro modo di guardare la realtà se uno è dentro il centro come siamo noi in Europa il modo di ragionare è a partire dal centro i problemi della periferia ci sono totalmente strani anzi li guardiamo urtando mentre dalla periferia si capisce la realtà del mondo per questo la politica deve curarsi innanzitutto delle ferite aperte e non di ciò che è opulento e di ciò che è stabile ancora un'altra opposizione polare globalizzazione e localizzazione il modello di Bergoglio tiene presente sia l'ideale universale sia il radicamento nel particolare quanto è attuale di questo modello oggi nel dibattito attuale dove si passa da un universalismo astratto da un europeismo astratto ad una reazione di un localismo totalmente anti-universale e la storia uscilla continuamente tra l'universalismo e il particolarismo il pensiero cattolico non si fa inchiodare nelle categorie destra-sinistra ma tiene presente l'unità dei contrari in una tensione vivente questo è il pensiero cattolico non ogni volta come una banderuola andare da una parte e dall'altra seguendo i poteri del mondo e seguendo i cambiamenti degli scenari storici quello questo pensiero polare Bergoglio lo chiama pensiero tensionante aperto polare che costruisce l'unità non eliminando i poli ma ponendoli in dialogo e impedendo che diventino contraddittori perché il rischio dei poli è di diventare contraddittori tra di loro cioè l'uno esclude l'altro e questa quando diventano contraddittori c'è guerra anche nel mondo nella geopolitica internazionale le tensioni arrivano fino a un certo punto poi esplodono allora lì se non ci sono uomini di pace che hanno l'intelligenza dritta e la capacità e la forza di tenere la barra al centro come si dice le situazioni diventano esplosive questo vale nella chiesa nel mondo nella società in qualsiasi luogo vale anche nella chiesa perché Bergoglio non lo accusano tanto di essere autoritario non smuove mai nessuno non pensiona nessuno aspetta sempre che finiscano gli anni giusti anche dei personaggi che più lo hanno criticato stanno sempre lì nessuno li ha mandati a Sant'Elena stanno sempre lì perché lui aspetta perché tiene no? a me personalmente ha detto ma è una cosa che ha detto a tanti no ma la critica fa bene quindi non bisogna schiacciare le le opposizioni i i contrasti quando questi si mantengono dentro una tensione vivente costruttiva polare in quanto tale il pensiero tensionante di Bergoglio si è formato in un clima di guerra l'argentina degli anni settanta divisa tra una giunta militare omicida sappiamo benissimo gli aerei che portavano spesso innocenti presi no? che venivano portati in alto mare e lasciati e buttati fuori dall'aereo sono morti 10 12 13 mila persone così tra la tortura e i viaggi in mare e i montoneros la guerrigliera filocastri i guerriglieri filocastristi che non erano da meno nella loro ferocia la chiesa presa in ostaggio tra questi due estremi no? la risposta di Bergoglio è una risposta cattolica cioè drammatica della chiesa come unità degli opposti non una unità irenica così pacificante all'acqua di rosa ma una capacità di valorizzare le istanze e di portarle su un piano più alto no? la domanda è dove da dove proveniva il giovane Bergoglio 36 anni questo pensiero dell'unità della chiesa come complexe oppositorum e lui usa proprio continuamente questa categoria il pensiero unitivo non disgiuntivo pensiero della polarità dell'opposizione e così via no? da dove veniva un pensiero familiare l'ho detto prima a chi ha studiato Romano Guardini è appena uscito un mio volume che porta il titolo Romano Guardini antinomia della verità e conoscenza affettiva per Guardini la verità è antinomica non è mai a senso unico ma il Bergoglio degli anni settanta non cita Guardini ma da chi allora trae questa idea a febbraio del diciassette il mio lavoro era terminato ma non compiuto il primo capitolo era incompleto non ero soddisfatto non avevo capito la vera genesi del pensiero di Bergoglio avevo capito e dimostrato che Bergoglio aveva un pensiero e solido e interessantissimo però da dove trae l'idea di fondo e non rimaneva che rivolgersi al Papa naturalmente non è stata la mia prima idea è stata l'ultima però non sapevo come risolvere la questione gli iscritti non mi aiutavano la biografia nemmeno e così via quindi ho chiesto a Carichiri dico che ne pensi facciamo un po' di domandine al Papa ci proviamo e lui mi ha detto proviamo non è detto che risponda io sono andato molto sul rigoroso gli ho fatto gli ho mandato un prospetto un progetto del lavoro l'indice gli ho accompagnato da una lettera in cui gli ho fatto capire che non era un lavoro accademico anche se aveva tutta la serietà del rigore scientifico non mi interessava fare di Bergoglio un intellettuale né lui lo avrebbe desiderato ma mi interessava rispondere a queste obiezioni che nella chiesa gli venivano fatte senza alcun fondamento evidentemente lui ha intuito che poteva essere utile e giusto e quindi ha risposto non vi dico come ma nel modo come fa lui insomma molto diretto senza tanti preamboli e io gli ho mandato in quattro occasioni una serie di domande domande toste non domandine così volevo veramente capire e quindi l'ho messo sotto pressione se così si può dire come se ne avesse bisogno evidentemente era già sotto pressione per mille faccende sue e ha trovato il tempo questa è la cosa che più mi ha commosso devo dire che in mezzo a mille cose abbia trovato il tempo di rispondermi con dei file audio abbiamo convenuto così addirittura nel giorno del quarto anno del suo pontificato lui ha risposto con due file audio quando avrà avuto messaggi di ringraziamento di auguri da mezzo mondo quindi ha trovato pure il tempo eccetera ed è lì sono nate una serie di scoperte decisive perché poi non è solo il primo capitolo ma sono andati a costituire parte integrante anche degli altri capitoli una fondamentale il rilievo di Ignazio di Loyola ma questo un po' lo si poteva capire ma un Ignazio di Loyola riletto attraverso gli occhi di un grande intellettuale gesuita del novecento che è Gaston Fessar che già veniva ricordato prima Gaston Fessar non sto a dirvi ma insomma è un pensatore dialettico cattolico dialettico polare della vita concepita come si antitesi degli opposti ebbene Fessar scrive un'opera nel 56 la dialectique de l'exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola la dialettica degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola il tramite il suo professore di filosofia Michel Angel Fiorito ebbene Francesco mi ha confessato che lui ha letto più volte l'opera di Fessard che lo ha influenzato molto e questo è andato poi a costituire il suo pensiero questa confessione per me è stato il punto chiave perché conoscendo un po' Fessard ho capito il filo rosso che legava tutto il pensiero di Bergoglio ho capito da dove nasce l'idea del pensiero cattolico come pensiero tensionante come unità degli opposti ho capito perché nell'86 quando va in Germania a fare la tesi di dottorato su Romano Guardini va a scegliere l'unica opera filosofica di Romano Guardini che è quella dedicata alla dialettica polare che è una scelta stranissima da parte di un sacerdote di in genere Romano Guardini ha scritto tantissimi libri di argomento religioso di teologia e così via quindi uno dice si occupa di altro no è andata a prendere l'unica opera filosofica ma guarda caso dedicata alla tensione polare della vita no e della società quindi da Fessard lui capisce che l'anima di Ignazio Sant'Ignazio è un'anima tensionante cioè agostiniana Ignazio ha un cuore agostiniano ed è la tensione è quella tra la grazia e la libertà ecco la grande tensione della vita cristiana che non può mai essere assopita la grazia non è mai una proprietà non è mai un possesso stabile la grazia va sempre domandata continuamente la tensione è tra la grazia e la libertà tra il grande e il piccolo tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo da qui nasce la teologia del come se che ci veniva ricordata prima vi leggo solo brevemente questa teologia del come se è un detto Ignaziano che lui commenta no perché Bergoglio oltre queste quattro interviste poi mi ha mandato del materiale attraverso il suo segretario e tra questi c'era anche un articolo di un gesuita tedesco che ruotava intorno a questo motto di Ignaziano abbi fiducia in Dio così che il successo delle cose dipenda da te e non da Dio sforzati però così come se tu non facessi nulla ma Dio da solo facesse tutto ecco una tipica tensione tu hai fede in Dio e ti impegni totalmente impegni totalmente te stesso te stesso la tua libertà perché la fede in Dio non ti esonera dalla tua libertà e dal tuo impegno e però fai tutto questo come se tutto questo dipendesse da Dio e nulla da te questo è un paradosso cioè è l'unione di due posizioni opposte che non trovano soluzioni sul piano della ragione perché l'una pare contraddire l'altra eppure questo paradosso è il mistero della vita cristiana la vita cristiana è l'unità tra due momenti dei quali io non posso dire fino a qui il 50% è mio l'altro 50% è di Dio no nel rapporto tra grazie e libertà io non lo so dove arrivo io e dove arriva Dio ambedue ci troviamo da qualche parte e Dio sorregge la mia debolezza e io mi impegno fino al massimo per poter essere grato dell'aiuto che egli mi dà è una teologia vedete dice ancora no commenta l'autore tedesco proprio in questo punto appare il valore incommensurabile della prima formula il rapporto tra grazia e libertà tra l'azione divina ed umana dimostra di essere vivo solo come domanda e non come una formula perfetta questa domanda deve essere vissuta ecco il rapporto con la fede richiede di essere domanda prima ancora che formula perfetta la fede non è tale non è semplicemente l'aderire ad una formula ma è una domanda continua ad una presenza che cambia continuamente la tua vita e ti rende certo della fede stessa è una teologia del paradosso la formula è di Harry de Lubac che è un altro dei grandi autori che costituiscono il punto di riferimento di Bergoglio sì perché una delle scoperte del libro è che per metà la formazione di Bergoglio è europea questi critici di Bergoglio che lo accusano di essere un latino americano dimenticano che i gesuiti hanno una formazione internazionale e i maestri veri di Bergoglio non sono i maestri che lui ha avuto nel collegio vicino a Buenos Aires no anzi di quelli non rimane proprio traccia non hanno esercitato alcuna influenza su di lui ma Harry de Lubac Gaston Fessart Michel de Sertot gli autori della scuola di Lione questi sì hanno esercitato una vera presenza nella formazione del pensiero di Bergoglio poi certo ci sono anche gli autori latino americani c'è Lucio Hera c'è Amelia Podetti c'è Metol Ferré questi sono il pool dei riferimenti americani allora il pensiero cattolico di Bergoglio scusate vado rapidissimo perché per non stancarvi il pensiero cattolico di Bergoglio è l'unità paradossale che si realizza grazie allo spirito la dialettica di Bergoglio è una dialettica mistica non è la dialettica di Hegel in cui le sintesi vengono fatte dalla ragione quando accusano Bergoglio di essere hegeliano dimostrano ancora una volta di quanto sono ignoranti e per Bergoglio la sintesi la fa Dio l'uomo ha lo scopo di iniziare i processi ma il tempo e la conclusione dei processi è nelle mani di Dio per questo lui dice il tempo è più importante dello spazio ma non lo dice come formula così generica ma lo dice perché il tempo è nelle mani di Dio allora è Dio che compie il processo che tu hai iniziato tu semini un altro raccoglie per questo il tempo è più importante dello spazio perché nello spazio tu ti attacchi a te stesso al tuo possesso alla tua proprietà privata no anche se continuamente dici Dio 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 anche quando la chiesa diventa spazio diventa una proprietà privata diventa un modo per certificare la tua potenza il tuo potere le tue capacità di egemonia e così via questo il pensiero cattolico è unità paradossale dello spirito per cui la realtà è più grande dell'idea il tempo è più grande dello spazio e l'unità è più grande del conflitto l'unità che ancora una volta la fa Dio un pensiero dialettico non egeliano che deriva da Fessarte che si colloca no non posso accennare di più ma dentro una grande tradizione del pensiero cattolico tra ottocento e novecento che inizia con Adam Möller e la scuola di Tubinga prosegue nel novecento con Eric Pschrivara Gesuita con Romano Guardini con Achri de Lubac Gesuita con Gaston Fessart Gesuita e si ritrova in Alberto Metolferré che era viva Dio un laico e non era né Gesuita né prete da il filone questo spiega perché da Fessarte lui ripeto poi scopra Romano Guardini che dall'ottantasei diventa il suo autore di riferimento soprattutto nel campo sociale e politico i discorsi le riflessioni sulla politica di Bergoglio sono di grandissimo interesse di grandissimo interesse e nella Evangelii Gaudium ma soprattutto nella enciclica Laudato Si Romano Guardini è citato ben cinque sei volte l'autore più citato in assoluto il filo rosso quindi quindi Bergoglio ha un pensiero questo è il primo punto la prima scoperta del mio libro non dovrei dirlo io ma è incredibile che ci siano voluti quattro anni del pontificato di Bergoglio perché uscisse il primo libro sul pensiero di Bergoglio perché il paradosso che anche quelli che appoggiavano il Papa non pensavano che Bergoglio avesse una statura intellettuale vera e propria che Bergoglio ha un pensiero e che questo pensiero è un pensiero che si radica dentro la grande una grande non la grande una grande tradizione del pensiero cattolico tra ottocento e novecento la sua immagine il poliedro ci è stato ricordato non la sfera perché la sfera è una unità senza diversità un pensiero polare significa l'unità con la diversità la vera ricchezza della chiesa ma anche della società è quando l'unità viene costruita valorizzando la diversità e quando la diversità non è polemica verso la costruzione dell'identità questo è dice lui lo spirito lasciatemi leggere un'ultima frase da Papa di Bergoglio che fa capire da dove nasce il suo pensiero cattolico come pensiero dello spirito santo dell'azione dello spirito in altre parole dice da Papa il medesimo spirito crea la diversità e l'unità e in questo modo plasma un popolo nuovo variegato e unito la chiesa universale da prima con fantasia e imprevedibilità crea la diversità in ogni epoca fa infatti fiorire carismi nuovi e vari poi lo stesso spirito realizza l'unità collega raduna ricompone l'armonia con la sua presenza dice Cirillo di Alessandria e la sua azione riunisce nell'unità spiriti che tra di loro sono distinti e separati cosicché ci sia l'unità vera quella secondo Dio che non è uniformità ma unità nella differenza per fare questo è bene aiutarci a evitare due tentazioni ricorrenti la prima è quella di cercare la diversità senza l'unità succede quando ci si vuole distinguere quando si formano schieramenti e partiti quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti quando ci si chiude nei propri particolarismi magari ritenendosi migliori o quelli che hanno sempre ragioni sono i cosiddetti custodi della verità allora si sceglie la parte non il tutto l'appartenere a questo o a quello prima che alla chiesa si diventa tifosi di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso spirito cristiani di destra o di sinistra prima che di Gesù custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della chiesa così c'è la diversità senza l'unità la tentazione opposta invece è quella di cercare l'unità senza la diversità in questo modo però l'unità diventa uniformità obbligo di fare tutto insieme tutto uguale di pensare tutti sempre allo stesso modo e così l'unità finisce per essere omologazione non c'è più libertà ma dice San Paolo dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà ecco ed è questa unità che trova la sua che permette di capire di capire quella polarità fondamentale per Francesco che è quella tra verità e misericordia quante discussioni inutili dopo a Moris Letizia sul fatto che questo Papa sarebbe un Papa del misericordismo un Papa per il quale la misericordia toglie il valore alla verità un Papa buonista quante scemenze misericordia e verità è una polarità per Bergoglio la verità è chiaro che viene prima perché la verità è universale è il polo oggettivo ma la declinazione particolare della verità si chiama misericordia la verità è per tutti la misericordia per alcuni per quelli con cui hai a che fare il rapporto tra verità e misericordia è un rapporto polare è una polarità è un'opposizione vivente la Chiesa vive della tensione tra verità e misericordia tra universale e particolare tra la verità e la sua declinazione così come c'è polarità tra il Kerigma e l'etica il contenuto di Vangeli Gaudium se il messaggio etico prende il posto dell'annuncio cristiano c'è qualcosa che non va se tutta l'azione del cristiano oggi nel mondo si polarizza su quattro valori etici sempre quelli e dimentica che viviamo in un mondo secolarizzato che non capisce nulla di questi valori allora bisogna rimettere in primo piano l'annuncio il Kerigma l'incontro come ci veniva ricordato prima la testimonianza che non esclude le conseguenze etiche o le battaglie su singoli valori che vengono fatte in sede politica però l'annuncio viene prima è una polarità anche questa tra il Kerigma e l'etica così come è una polarità quella tra la tradizione e il rinnovamento questo Papa non è che rinnova abbandonando la tradizione la tradizione è un punto fermo ma la tradizione vive nella storia ogni volta dentro un rinnovamento intelligente grazie ringrazio ringraziamo ringraziamo Massimo per il lavoro i relatori per averci introdotto voi tutti per la presenza ricordo che in fondo c'è un banco libro in cui è possibile trovare questo e altri testi del professor Borghesi e anche Deulean Carron e alla prossima occasione grazie grazie